è bello io non so che regole giocano tutte e due perché lui qua da la parte c'è un altro, c'è un altro, c'è un altro c'è un altro, c'è un altro c'è un altro, c'è un altro c'è un altro ah ti tocca a te c'è come stiamo ridotto ma è male ragazzi c'è poi una grandissima partita dai a chi tocca? sotto a chi tocca dai qua dai dai ti stai emozionato no? come ti chiamo in televisione? dai bivacco ma secondo te dopo verrà bevuto? guardatelo dai confermo vedete l'altra volta vestito da la mia parte anche io anche io già sono preparato è un infilato incredibile guarda sta facendo dama eh dama 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 a gi io 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 te e me con fu panda con fu panda con fu panda punta tutto su lui dai calcola che è il prosperini con 2 euro vince 300 euro io quanto vinco? te con 3 euro ne vinci 5 perché era votato con lui ma quanto è? 0,1 è dato? perché l'hai votato quando già ci aveva la dama e guardate ha già una dama c'è una seconda dama tra poco c'è un po' una seconda e tu manco una? cioè che dobbiamo fare? che dobbiamo fare? ceccoli la sua mossa mentre la gente che lavora la gente che entra chiediamo che anche il buon romano vai è intenso nel lavoro guardate se vuoi comprare un televisore a 749 euro vai ah avevamo girato quando avevamo confiatato ah ok anche 5 addirittura due doppie ceccoli cosa dice alla stampa? rilascio interviste sulla fine della partita ma che cos'è? Murigno 2 ma dai non vuole? va bene ma dica la verità si sta cagando sotto? è quello che giocata la dama dalla mattina alla sera proprio insomma può mangiare qua no? no no wow mangiata brava si fa è persa alla prossima partita si rispetta poco classica dai